Rieccoci amici su Pausa Caffè edizione live, come sempre un saluto da Max e nonostante siano passati diversi mesi dalla scelta di Uomini e Donne, di Federico e Carola, ora i due praticamente si si sono già lasciati, ma l'ex corteggiatrice Alice Barisciani non sembra aver dimenticato il fatto che non è stata preferita all'altra ragazza, non gli è andato giù diciamo. Ha rilasciato un'intervista abbastanza velenosa che sembra prendere di mira proprio il giovane e la sua ex fidanzata. Oltre questo ha risposto per la prima volta alla domanda se abbia o meno voglia di diventare tronista nel dating show di Maria De Filippi. Quindi gli ex uomini e Donne Federico e Carola non sono più tornati insieme, anche se le indiscrezioni delle ultime settimane dicevano altro. Lui ha confermato che non ci sono possibilità per un ritorno, ma ora a fare discutere sono le dichiarazioni di Alice Barisciani. L'ex corteggiatrice è entrata a gamba tesa, anche se è rimasta nel generico, non nominando direttamente Nicotera e Carpanelli, che però sembrano essere stati messi nel mirino. Prima di dirvi cosa ha affermato l'ex corteggiatrice di uomini e donne su Federico e Carola, Alice Barisciani nella sua conversazione con Libero Quotidiano ha pure toccato il tema Temptation Island e la coppia composta da Gabriele e Giuseppe. L'unico errore che ha fatto è stato tornarci insieme, lo avrei fatto correre ancora un po'. E sul suo possibile futuro a UED, ho fame di nuove esperienze e ho voglia di mettermi in gioco. Io tronista. Sarebbe un buon riscatto, penso di meritarlo un amore vero. Malice non ha alcuna intenzione ad esempio di partecipare al GFVP8, so che c'è chi ci sta provando in modo sfegatato, quindi cedo la poltrona. A Libero Quotidiano, parlando delle coppie nate a UED, ha invece detto, le coppie sono scoppiate semplicemente perché non erano scelte di cuore, ma di business. La rottura tra Federico e Carola? Me lo aspettavo, però mi dispiace. Io non auguro mai il male a nessuno, ha concluso. Staremo a vedere comunque se Alice Barisciani sarà davvero scelta come prossima tronista da Maria, oppure se la padrona di casa propenderà per altre scelte. Lo scopriremo solamente nelle prossime settimane, quando ci saranno le ufficialità prima delle registrazioni delle puntate a fine agosto. Mi raccomando, vi aspetto al prossimo video. Ciao, un saluto da Max.